Siamo arrivati alla pagina sportiva della TG Noi, apriamo con l'Hockey e con la debacle immeritata del CGC Viareggio sul campo delle Lodi in gara 2 delle semifinali, play-off. Ci racconta com'è andata Roy Lepore. Il Centro Giovani Calciatori esce sconfitto 4-1 con tante recriminazioni dalla pala Castellotti con il Lodi, dopo che dopo 7 minuti aveva avuto la possibilità di passare in vantaggio con Ventura che non è riuscita a trasformare un tiro diretto per un fallo subito da Costa da parte di Cherido. C'è invece il vantaggio dei padroni di casa con la deviazione fortuita di Malagoli che sfrutta il risultato. il CGC reagisce ma la squadra di casa contiene anche grazie alle parate di Català che alla fine sarà sicuramente il migliore dei suoi. Il raddoppio arriva con Alessandro Verona al diciottesimo autore di una tripletta. Nel finale della frazione c'è però un episodio contestato dai viareggini. Al ventitresimo viene espulso Costa per proteste con Barozzi che para il tiro diretto di Cocco. In inferiorità numerica Mirko Bertolucci recupera la pallina e sulla sirena scaglia un tiro che viene deviato nella propria porta da Cherido. Qua gli arbitri però non concedono anche se il tiro sembrava entrato prima della conclusione. Si va comunque al riposo con il CGC sotto di due reti ma con questo episodio che farà molto molto discutere. Anche nella ripresa Palagi e i compagni giocano alla pali e cercano di andare in gol ma non ci riescono. La differenza la fa ancora una volta come detto il portiere Català. Al terzo lo scatenato Verona cala il trist con un preciso tiro dal limite. Anche sotto di tre reti il CGC continua a giocare senza demoralizzarsi ma trova come detto Català molto brava. Al diciassettesimo Verona completa la tripletta personale smarcandosi in aria e insaccando il troppo penalizzante 4-0. Poi al ventunesimo Mirko Bertolucci trasforma un tiro diretto del decimo fallo dell'Odi e realizza come si dice in gergo calcistico il gol della bandiera. Sabato prossimo nuovamente la sfida all'Odi e si parte dall'1-1. Passiamo al calcio alla serie di impresa Viareggio che va a vincere sul campo del Ponzacco per 2-1. Gli altri risultati delle squadre della provincia di Lucca è Rialforte Querceta vinto 3-1 sul campo dell'Argentina. Sconfitta invece per il Seravezza in casa ha perso contro il Sanremo per 2-1. Pareggio interno per il Giviborgo 0-0 contro il Ligorna. E in eccellenza il Castelnuovo battendo in casa 2-0 il Castelfiorentino si è guadagnato la salvezza evitando anche i play-out. Chiudiamo purtroppo con un lutto in casa lucchese prematuramente scomparso Claudio Di Bert, presidente del club fedelissimi Paolo Galli. È deceduto all'ospedale San Luca a causa di un malore improvviso. Da sempre amante dei colori rossoneri, insieme a Giuliano Lombardi era stato per anni tra gli organizzatori di trasferte al seguito della lucchese. Di Bert lascia il fratello Stefano, la compagna Alessia Lombardi e la cognata Cristina. I funerali si svolgeranno lunedì alle 15.30 alla chiesa dell'Arancio. Condoglianza alla famiglia da parte della redazione di Noi TV. È tutto anche per lo sport. Adesso di nuovo la pubblicità, poi la terza e ultima parte del TG Noi.